In questo video vediamo la tecnica esecutiva di due esercizi. Il primo è mountain climbers. Appoggia le mani a terra tenendo le braccia tese e allineando spalla, gomito e polso. Appoggia le punte dei piedi allineando tutto il corpo. Porta le ginocchia alternate più che puoi verso il petto, con una media velocità. Mentre svolgi l'esercizio cerca di non sollevare il sedere e di mantenerlo all'altezza delle spalle. Il secondo esercizio è high knee. Dà in piedi, piega i gomiti a 90 gradi e rivolgi il palmo delle mani verso il basso. Alza le ginocchia alternate cercando di toccare le mani. Cerca di mantenere una velocità media.